Sura trentunesima Alif Lam Mim Questi sono i versetti del libro saggio, guida e misericordia per coloro che compiono il bene, che assolvono l'orazione e pagano la decima e fermamente credono nell'altra vita, che seguono la guida del loro signore, questi sono coloro che prospereranno. Tra gli uomini, vi è chi compra storie ridicole per distogliere la gente dal sentiero di Allah e burlarsi di esso. Quelli avranno un castigo umiliante. Quando gli si recitano i nostri versetti, volge le spalle superbo come se non li avesse sentiti, come se avesse un peso nell'orecchie. Dagli annuncio di un doloroso castigo. Coloro che credono e compiono il bene, avranno i giardini della delizia, dove rimarranno in perpetuo. Questa in verità, la promessa di Allah. Egli è l'eccelso, il saggio. Ha creato i cieli, senza pilastri che possiate vedere, ha infisso le montagne sulla terra, che altrimenti si sarebbe mossa e voi con essa, e la popolata di animali di tutte le specie. Abbiamo fatto scendere un'acqua dal cielo e abbiamo fatto germogliare ogni tipo di magnifica specie di piante. Questa è la creazione di Allah. Mostratemi allora quello che hanno creato gli altri che adorate all'infuori di lui. No, gli ingiusti sono in errore palese. Certamente fumo noi a dare la saggezza a Luqman. Sii riconoscente ad Allah, chi è riconoscente lo è per se stesso. Quanto a colui che è ingrato, in verità Allah è colui che basta a se stesso, il degno di lode. E ricorda quando Luqman disse a suo figlio, Figlio mio, non attribuire ad Allah associati. Attribuirli associati è un'enorme ingiustizia. Abbiamo imposto all'uomo di trattare bene i suoi genitori. Lo portò a sua madre di travaglio in travaglio e lo svezzò dopo due anni. Sii riconoscente a me e ai tuoi genitori. Il destino ultimo è verso di me. E se entrambi ti obbligassero ad associarmi ciò di cui non hai conoscenza alcuna, non obbedire loro, ma sii comunque cortese con loro in questa vita e segui la via di chi si rivolge a me. Poi a me farete ritorno e vi informerò su quello che avrete fatto. O figlio mio, anche se fosse come il peso di un granello di senape nel profondo di una roccia o nei cieli o sulla terra, Allah lo porterà alla luce. Allah è dolce e ben informato. O figlio mio, assolvi all'orazione, raccomanda le buone consuetudini e proibisci il biasimevole e sopporta con pazienza quello che ti succede. Questo è il comportamento da tenere in ogni impresa. Non voltare la tua guancia dagli uomini e non calpestare la terra con arroganza. In verità Allah non ama il superbo vanaglorioso. Sii modesto nel camminare e abbassa la tua voce. In vero, la più sgradevole delle voci è quella dell'asino. Non vedete come Allah vi ha sottomesso quel che è nei cieli e sulla terra e ha diffuso su di voi i suoi favori, palesi e nascosti? Ciò nonostante vi è qualcuno tra gli uomini che polemizza a proposito di Allah senza avere né scienza, né guida, né un libro luminoso. E quando si dice loro seguite quello che Allah ha rivelato, rispondono seguiremo invece quello che abbiamo trovato presso i nostri avi. Insisterebbero così anche se Satana li chiamasse al castigo della fiamma? Chi sottomette il suo volto ad Allah e compie il bene si afferra all'ansa più salda. In Allah è l'esito di tutte le cose. Quanto a chi è miscredente non ti affligga la sua miscredenza. A noi faranno ritorno e li informeremo di quel che avranno fatto. Allah conosce perfettamente cosa c'è nei cuori. Diamo loro godimento effimero per un po' di tempo e poi li spingeremo con forza nel castigo terribile. Se domandi loro chi ha creato i cieli e la terra certamente risponderanno Allah di lode ad Allah ma la maggior parte di loro non sanno. Appartiene ad Allah tutto quello che è nei cieli e sulla terra. Allah basta a se stesso è il degno di lode. Anche se tutti gli alberi della terra diventassero calami e il mare e altri sette mari ancora fossero inchiostro non potrebbero esaurire le parole di Allah. In verità Allah è eccelso saggio. La vostra creazione e risurrezione per Allah è facile come quella di una sola anima. Allah è l'audiente colui che tutto osserva. Non hai visto come Allah ha fatto sì che la notte compenetri il giorno e il giorno compenetri la notte? E come ha sottomesso il sole e la luna ciascuno dei quali procede nel suo corso fino a un termine stabilito? Ciò in quanto Allah è la verità mentre quel che invocano all'infuori di lui è falsità. Allah è l'altissimo il grande. Non hai visto che è per grazia di Allah che la nave solca il mare affinché vi mostri qualcuno dei suoi segni? In verità in ciò vi sono segni per ogni uomo di perseveranza di riconoscenza. Quando li copre un'onda come fosse tenebra invocano Allah e gli rendono un culto puro. Quando poi Allah li mette al sicuro sulla terra ferma alcuni di loro seguono una via intermedia. Solo il peggior traditore il peggior ingrato rinnegherà i nostri segni. Uomini temete il vostro Signore e paventate il giorno in cui il padre non potrà soddisfare il figlio né il figlio potrà soddisfare il padre in alcunché. La promessa di Allah è verità. Badate che non vi inganni la vita terrena e non vi inganni su Allah l'ingannatore. In verità la scienza dell'ora è presso Allah colui che fa scendere la pioggia e conosce quello che c'è negli uteri. Nessuno conosce ciò che guadagnerà l'indomani e nessuno conosce la terra in cui morrà. In verità Allah è sapiente il ben informato. Sura trentaduesima Alif Lam Mim La rivelazione del libro proviene senza alcun dubbio dal Signore dei mondi. Diranno l'ha inventato? È invece una verità che proviene dal tuo Signore affinché tu ammonisca un popolo a cui non giunse prima di te alcun ammonitore affinché si lasciano guidare. Allah è colui che ha creato in sei giorni i cieli e la terra e tutto ciò che vi è fra mezzo quindi si è innalzato sul trono. Al di fuori di lui non avete alcun patrono o intercessore non ve ne ricorderete? Dal cielo dirige le cose della terra e poi tutto risalirà a lui in un giorno che sarà come mille anni del vostro contare. Egli è colui che conosce il palese e l'invisibile è l'eccelso il misericordioso. È colui che ha perfezionato ogni cosa creata e dall'argilla ha dato inizio alla creazione dell'uomo quindi ha tratto la sua discendenza da una goccia d'acqua insignificante quindi gli ha dato forma e ha insufflato in lui del suo spirito vi ha dato l'udito gli occhi e i cuori quanto poco siete riconoscenti e dicono quando saremo dispersi nella terra godremo di una nuova creazione? È che non credono all'incontro con il loro Signore d' l'angelo della morte che si occuperà di voi vi farà morire e poi sarete ricondotti al vostro Signore se allora potessi vedere i malvagi dire col capo chino davanti al loro Signore nostro Signore abbiamo visto e sentito lasciaci tornare sì che possiamo fare bene ora crediamo con certezza se avessimo voluto avremmo dato ad ogni anima la sua direzione se invece compiuta la mia sentenza riempirò l'inferno di uomini e di demoni insieme gustate allora il castigo per aver dimenticato l'incontro di questo giorno in verità anche noi vi dimentichiamo gustate il castigo perpetuo per quello che avete fatto in verità credono nei nostri segni solo coloro che quando vengono loro rammentati si gettano in prosternazione lodano il loro Signore rendendogli gloria e non sono tronfi di orgoglio strappano i loro corpi dei letti per invocare il loro Signore per timore e speranza e sono generosi di quello che abbiamo loro concesso nessuno conosce la gioia immensa che li attende ricompensa per quello che hanno fatto forse il credente è come l'empio non sono affatto uguali coloro che credono e compiono il bene saranno ospitati nei giardini del rifugio premio per quello che avranno fatto mentre coloro che saranno stati empi avranno per rifugio il fuoco ogni volta che vorranno uscirne vi saranno ricondotti e sarà detto loro provate il castigo del fuoco che tacciavate di menzogna daremo loro un castigo immediato prima del castigo più grande affinché ritornino sulla retta via chi è peggiore ingiusto di colui che si distoglie dai segni di Allah dopo che gli sono stati ricordati in verità ci vendicheremo dei trasgressori già ademo il libro a Mosè dicendogli non dubitare circa il suo incontro ne facemmo una guida per i figli di Israele e finché furono perseveranti e credettero con fermezza nei nostri segni scegliamo tra loro dei capi che li dirigessero secondo il nostro comando in verità il tuo Signore nel giorno della risurrezione giudicherà tra loro a proposito delle loro divergenze non è servito loro da lezione che prima di loro abbiamo fatto perire tante generazioni nelle cui case in rovina si aggirano in verità in ciò vi sono segni non ascolteranno dunque non hanno visto come spingiamo l'acqua verso una terra arida suscitando poi una vegetazione che nutre il loro bestiame loro stessi non vedranno dunque e dicono quando verrà questa vittoria se siete veridici di nel giorno della vittoria saravano il credere dei miscredenti non avranno alcun rinvio allontanati dunque da loro e aspetta anche loro aspetteranno Sura trentatreesima O profeta temi Allah e non obbedire né ai miscredenti né agli ipocriti in verità Allah è sapiente saggio segui ciò che ti è stato rivelato dal tuo signore in verità Allah è ben informato di quel che fate riponi fiducia in Allah Allah è sufficiente patrono non ha posto due cuori nel petto di nessun uomo ne ha fatto vostre madri le spose che paragonate alla schiena delle vostre madri e neppure ha fatto vostri figli i figli adottivi tutte queste non sono altro che parole delle vostre bocche invece Allah dice la verità è lui che guida sulla retta via date loro il nome dei loro padri ciò è più giusto davanti ad Allah ma se non conoscete i loro padri siano allora vostri fratelli nella religione e vostri protetti , non ci sarà colpa per voi per ciò che fate inadvertitamente ma per quello che i vostri cuori fanno volontariamente Allah è perdonatore misericordioso il profeta è più vicino e credenti di loro stessi e le sue spose sono le loro madri secondo il libro di Allah nella successione i legami parentali hanno priorità su quelli tra i credenti e tra gli immigrati a meno che non vogliate lasciare un legato a favore dei vostri fratelli nella religione questo è scritto nel libro di Allah ricorda quando accettammo il patto dei profeti il tuo quello di Noè di Abramo di Mosè e di Gesù figlio di Maria concludemmo con loro un patto solenne affinché Allah chieda conto ai sinceri della loro sincerità per i miscredenti ha preparato un castigo doloroso o credenti ricordatevi dei favori che Allah vi ha concesso quando vi investirono gli armati contro di loro mandamo un uragano e schiere che non vedeste Allah vede perfettamente quello che fate quando vi assalirono dall'alto e dal basso si offuscarono i vostri sguardi avevate il cuore in gola e vi lasciavate andare ad ogni sorta di congettura a proposito di Allah furono messi alla prova i credenti e turbati da un urto violento e ricorda quando gli ipocriti e coloro che hanno una malattia nel cuore dicevano Allah e il suo messaggero ci hanno fatto promesse per ingannarci e un gruppo di loro disse gente di Atrib non potrete resistere desistete cosicché una parte di loro chiese al profeta di poter andare via dicendo le nostre case sono indifese mentre non lo erano volevano solo fuggire se fosse stata fatta un'incursione dei limiti esterni della città e se fosse stato chiesto loro di abbiurare lo avrebbero fatto senza indugio anche se prima avevano stretto con Allah il patto di non voltare le spalle saranno interrogati a proposito del patto con Allah di loro la fuga non vi sarà utile se fuggite la morte o l'essere uccisi non avrete altro che breve gioia di chi mai vi porrà oltre la portata di Allah se egli vuole un male per voi o se per voi vuole una misericordia non troveranno all'infuori di Allah alcun patrono o soccorritore certamente Allah conosce quali di voi frappongono ostacoli e quali dicono ai loro fratelli venite da noi e ben dirà dove vanno a combattere sono avari verso di voi quando li prende il panico li vedrai guardarti con gli occhi allucinati di chi è svenuto per paura della morte poi appena passata la paura vi investono con toni esacerbati avidi di bottino costoro non sono affatto credenti e Allah vanificherà le loro azioni ciò è facile per Allah pensavano che i qualizzati non se ne sarebbero andati se i qualizzati ritornassero se ne andrebbero nel deserto a vagare tra i beduini e chiederebbero vostre notizie se fossero rimasti con voi avrebbero combattuto ben poco avete nel messaggero di Allah un bell'esempio per voi per chi spera in Allah e nell'ultimo giorno e ricorda Allah frequentemente quando i credenti videro e qualizzati dissero ciò è quanto Allah e il suo messaggero ci avevano promesso Allah e il suo messaggero hanno detto la verità e ciò non fece che accrescere la loro fede e la loro sottomissione tra i credenti ci sono uomini che sono stati fedeli al patto che avevano stretto con Allah alcuni di loro hanno raggiunto al termine della vita altri ancora attendono ma il loro atteggiamento non cambia affinché Allah compensi i fedeli della loro fedeltà e castighi se vuole gli ipocriti oppure accetti il loro pentimento Allah è perdonatore misericordioso Allah ha respinto nel loro astio i miscredenti senza che abbiano conseguito alcun bene e ha risparmiato ai credenti la lotta alla è forte ed eccelso ha fatto uscire dalle loro fortezze coloro fra la gente del libro che avevano spalleggiato i coalizzati ed ha messo il panico nei loro cuori ne uccideste una parte e un'altra parte la faceste prigioniera vi ha dato in eredità la loro terra le loro dimore e i loro beni e anche una terra che mai avevate calpestato Allah è onnipotente o profeta di alle tue spose se bramate il fasto di questa vita venite vi darò modo di goderne e vi darò grazioso congedo se invece bramate Allah e il suo inviato e la dimora ultima sappiate che Allah ha preparato una ricompensa enorme per quelle di voi che fanno il bene o mogli del profeta quella fra voi che si renderà colpevole di una palese turpitudine avrà un castigo raddoppiato due volte ciò è facile per Allah mentre a quella di voi che rimane devota da Allah e al suo inviato e compie il bene concederemo ricompensa doppia le abbiamo riservato generosa provvidenza o mogli del profeta non siete simili ad alcuna delle altre donne se volete comportarvi devotamente non siate accondiscendenti nel vostro eloquio che non vi desideri chi ha una malattia nel cuore parlate invece in modo conveniente rimanete con dignità nelle vostre case e non mostratevi come era costume ai tempi dell'ignoranza eseguite l'orazione pagate la decima ed obbedite ad Allah e al suo inviato o gente della casa Allah non vuole altro che allontanare da voi ogni sozzura e a rendervi del tutto puri e ricordate i versetti di Allah che vi sono recitati nelle vostre case e la saggezza in verità Allah è perspicace e ben informato in verità i musulmani e le musulmane i credenti e le credenti i devoti e le devote i leali e le leali i perseveranti e le perseveranti i timorati e le timorate quelli che fanno l'elemosina e quelle che fanno l'elemosina i digiunatori e le digiunatrici i casti e le caste quelli che spesso ricordano Allah e quelle che spesso ricordano Allah sono coloro per i quali Allah ha disposto perdono ed enorme ricompensa quando Allah e il suo inviato hanno decretato qualcosa non è bene che il credente o la credente scelgano a modo loro chi disobbedisce ad Allah e al suo inviato palesemente si travia ricorda quando dicevi a colui che Allah aveva gradito e che tu stesso avevi favorito tieni per te la tua sposa e temi Allah mentre nel tuo cuore tenevi celato quel che Allah avrebbe reso pubblico temevi gli uomini mentre Allah ha più diritto di essere temuto quando poi Zaid non ebbe più relazione con lei te l'abbiamo data in sposa cosicché non ci fosse più per i credenti alcun impedimento verso le spose dei figli adottivi quando essi non abbiano più alcuna relazione con loro l'ordine di Allah deve essere eseguito pertanto nessuna colpa al profeta per ciò che Allah gli ha imposto questa è stata la norma di Allah anche per coloro che vissero in precedenza l'ordine di Allah è decreto immutabile essi trasmettevano i messaggi di Allah lo temevano e non temevano altri che Allah Allah è il più esauriente dei contabili Muhammad non è padre di nessuno dei vostri uomini egli è l'inviato di Allah e il sigillo dei profeti Allah conosce ogni cosa o voi che credete ricordate spesso il nome di Allah e glorificatelo al mattino e alla fine del giorno egli è colui che affonde le sue benedizioni su di voi assieme ai suoi angeli per trarvi dalle tenebre alla luce egli è misericordioso per i credenti nel giorno in cui lo incontreranno il loro saluto sarà pace egli ha preparato per loro generosa ricompensa o profeta ti abbiamo mandato come testimone nunzio e ammonitore che chiama ad Allah con il suo permesso e come lampada che illumina e dà ai credenti la lieta novella che per loro c'è una grande grazia di Allah non obbedire ai miscredenti agli ipocriti non ti curare della loro persecuzione e confida in Allah Allah è sufficiente come protettore o credenti quando sposate le credenti e poi divorziate da esse senza averle toccate non saranno obbligate a rispettare un periodo d'attesa date loro qualcosa e date loro grazioso congedo o profeta ti abbiamo reso lecite le spose alle quali hai versato il dono nuziale le schiave che possiedi che Allah ti ha dato dal bottino le figlie del tuo zio paterno e le figlie delle tue zie paterne le figlie del tuo zio materno e le figlie delle tue zie materne che sono emigrate con te e ogni donna credente che si offre al profeta a condizione che il profeta voglia sposarla questo è un privilegio che ti ha riservato che non riguarda gli altri credenti ben sappiamo quello che abbiamo imposto loro a proposito delle loro spose e delle schiave che possiedono così che non ci sia imbarazzo alcuno per te Allah è perdonatore misericordioso se farai aspettare quelle che vorrai e chiamerai da te quella che vorrai e se andrai a riprenderne una che avevi fatto aspettare non ci sarà colpa per te così che siano confortate e cessi la loro afflizione e siano contente di ciò che avrai concesso loro Allah conosce quello che c'è nei vostri cuori Allah è sapiente e magnanimo d'ora in poi non ti è più permesso di prendere altre mogli e neppure di cambiare quelle che hai con altre anche se ti affascinano la loro bellezza eccetto le schiave che possiedi Allah osserva ogni cosa o credenti non entrate nelle case del profeta a meno che non siate invitati per un pasto e dopo aver atteso che il pasto sia pronto quando poi siete invitati entrate e dopo aver mangiato andatevene senza cercare di rimanere a chiacchierare familiarmente ciò è offensivo per il profeta ma ha vergogna di dirlo a voi mentre Allah non ha vergogna della verità quando chiedete ad esse un qualche oggetto chiedetelo da dietro una cortina ciò è più puro per i vostri cuori e per i loro non dovete mai offendere il profeta e neppure sposare una delle sue mogli dopo di lui sarebbe un'ignominia nei confronti di Allah sia che rendiate palese qualcosa o la nascondiate in verità Allah conosce ogni cosa nessuna colpa per le spose del profeta se si mostreranno ai loro padri ai loro figli ai figli dei loro fratelli ai figli delle loro sorelle alle loro donne o alle loro schiave e temano Allah Allah è testimone di ogni cosa in verità Allah e i suoi angeli benedicono il profeta o voi che credete beneditelo e invocate su di lui la pace coloro che offendono Allah e il suo messaggero sono maledetti da Allah in questa vita e nell'altra Allah ha preparato per loro un castigo avvilente e quelli che ingiustamente offendono i credenti e le credenti si fan carico di calunnia e di evidente peccato o profeta di alle tue spose alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli così da essere riconosciute e non essere molestate Allah è perdonatore misericordioso se gli ipocriti coloro che hanno un morbo nel cuore e coloro che spargono la sedizione non smettono ti faremo scendere in guerra contro di loro e rimarranno ben poco nelle tue vicinanze maledetti ovunque li si troverà saranno presi e messi a morte questa è stata la consuetudine di Allah nei confronti di coloro che vissero precedentemente non troverai alcun cambiamento nella consuetudine di Allah ti interrogano gli uomini a proposito dell'ora di la scienza di ciò è solo presso Allah cosa ne sai forse l'ora è vicina in verità Allah ha maledetto i miscredenti ed ha preparato per loro la fiamma affinché vi rimangano in perpetuo senza trovare né protettore né ausilio il giorno in cui i loro volti saranno rivoltati nel fuoco diranno ai noi ah se avessimo obbedito ad Allah se avessimo obbedito al messaggero e diranno nostro signore noi abbiamo obbedito ai nostri capi ai nostri notabili sono loro che ci hanno sviati dalla retta via signor nostro da loro doppio castigo e maledicili della maledizione più grande o credenti non siate come coloro che molestarono Mosè già Allah lo scagionò da quello che avevano detto egli è in grande onore presso Allah o credenti temete Allah e parlate onestamente sì che corregga il vostro comportamento e perdoni i vostri peccati chi obbedisce ad Allah e al suo inviato otterrà il più grande successo in verità proponemmo ai cieli alla terra e alle montagne la responsabilità della fede ma rifiutarono e ne ebbero paura mentre l'uomo se ne fece carico in verità egli è ingiusto e ignorante ed è così affinché Allah castighi gli ipocriti e le ipocrite gli associatori e le associatrici e accolga Allah il pentimento dei credenti e delle credenti Allah è perdonatore misericordioso Sura 34 Lode ad Allah colui cui appartiene tutto quel che è nei cieli e sulla terra lode a lui nell'altra vita egli è il saggio il ben informato conosce quello che penetra nella terra e quello che ne esce quel che scende dal cielo e quel che vi ascende egli è il misericordioso il perdonatore i miscredenti dicono non ci raggiungerà allora di loro no per il mio signore certamente giungerà a voi per colui che conosce l'invisibile colui al quale non sfugge il peso di un atomo nei cieli e sulla terra e non c'è nulla di più grande o più piccolo che non sia in un libro chiarissimo affinché alla ricompensi coloro che credono e compiono il bene saranno perdonati e avranno un dono generoso coloro invece che avranno cercato di vanificare i nostri segni subiranno il castigo del tormento doloroso coloro cui è stata data la scienza vedono che quel che ti è stato rivelato da parte del tuo signore è verità e guida sulla via dell'eccelso del degno di lode dicono i miscredenti volete che vi mostriamo un uomo che vi predirà una nuova creazione dopo che sarete stati del tutto dispersi ha inventato menzogne contro Allah o forse è posseduto no coloro che non credono nell'altra vita sono destinati al castigo e a errare rontano non vedono forse quel che di cielo e di terra c'è davanti a loro e dietro di loro se volessimo li faremmo inghiottire dalla terra o faremmo cadere su di loro brandelli di cielo in verità in ciò vi è un segno per ogni servo che torna a lui pentito già concedemmo a Davide una grazia speciale glorificate montagne e anche voi uccelli insieme con lui e gli rendemmo malleabile il ferro dicendogli fabbrica cotte di maglia e stringi bene le maglie agite bene in verità io osservo quello che fate sottomettemmo a Salomone il vento che percorre un mese di marcia il mattino e un mese la sera e facemmo scorrere la fonte di rame lavoravano i demoni sotto di lui col permesso del suo signore se uno qualunque di loro si fosse allontanato dal nostro ordine gli avremmo fatto provare il castigo della fiamma costruivano per lui quel che voleva templi e statue vassoi grandi come abbeveratoi e caldaie ben stabili o famiglia di Davide lavorate con gratitudine e invece sono ben pochi i miei servi riconoscenti quando poi decidemmo che morisse fu solo la bestia della terra che gli avvertì della sua morte rosicchiando il suo bastone poi quando cadde ebbero la prova i demoni che se avessero conosciuto l'invisibile non sarebbero rimasti nel castigo avvilente c'era in vero per la gente di Sabah un segno nella loro terra due giardini una destra e una sinistra mangiate quel che il vostro signore vi ha concesso e siate gli riconoscenti avete una buona terra e un signore che perdona si allontanarono da noi e allora inviammo contro di loro lo straripamento delle dighe e trasformammo i loro due giardini in due giardini di frutti amari tamarischi e qualche loto così li ricompensammo per la loro miscredenza castighiamo in tal modo altri che il miscredente situamo tra loro e le città che avevamo benedetto altre città visibili l'una dall'altra e calcolamo la distanza tra loro viaggiate di notte di giorno in sicurezza dissero signore aumenta la distanza tra le nostre soste così danneggiarono loro stessi ne facemmo argomento di leggende e li disperdemmo in ogni luogo in verità in ciò vi sono segni per ogni uomo perseverante e riconoscente e iblis si convinse di aver visto il giusto a loro proposito lo seguirono dunque eccetto un gruppo di credenti non aveva su di loro alcun potere eccetto per il fatto che volevamo distinguere chi credeva nell'altra vita e chi ne dubitava il tuo signore è colui che preserva ogni cosa d invocate coloro che pretendete essere divinità all'infuori di Allah non sono padroni neppure del peso di un atomo nei cieli e sulla terra in quelli e in questa non hanno parte alcuna con Allah e in loro egli non ha nessun sostegno nessuna intercessione varrà presso di lui eccetto per colui al quale egli lo avrà permesso quando poi il terrore avrà lasciato i loro cuori verranno interrogati cosa diceva il vostro signore risponderanno la verità egli è l'altissimo il grande di chi provvede a voi dai cieli e dalla terra di Allah in verità o noi siamo sulla retta via oppure in evidente errore di non sarete interpellati a proposito di quel che noi avremo commesso e noi non lo saremo a proposito di quel che avrete fatto voi di il nostro signore ci riunirà quindi giudicherà tra noi secondo verità egli è il giudice che tutto conosce di mostratemi quelli che gli avete attribuito come soci niente affatto egli è Allah l'eccesso il saggio non ti abbiamo mandato se non come enunzio da monitore per tutta l'umanità ma la maggior parte degli uomini non sanno e dicono quando si realizzerà questa promessa ditecelo se siete veridici di vi aspetto un giorno che non sapreste né ritardare né anticipare di un'ora i miscredenti dicono non crederemo mai in questo corano e neppure a ciò che lo precede se potessi vedere quando gli ingiusti saranno davanti al loro signore immobili si interpelleranno gli uni con gli altri e coloro che erano considerati deboli diranno a quelli che erano tronfi d'orgoglio se non fosse stato per voi certamente avremmo creduto e quelli che erano tronfi d'orgoglio diranno a coloro che consideravano deboli vi abbiamo forse impedito di seguire la retta via dopo che essa vi giunse no anche voi siete stati colpevoli e coloro che erano considerati deboli diranno a quelli che erano tronfi d'orgoglio no furono le vostre perfidie di giorno e di notte quando ci ordinavate di disconoscere Allah e attribuirgli consimili ce l'eranno il loro rimorso quando vedranno il castigo perché porremo i giochi al collo dei miscredenti saranno compensati per altro che per le opere loro non mandammo un ammonitore a una comunità senza che coloro che vivevano nella giatezza dicessero non crediamo in ciò per cui siete stati inviati dissero abbiamo ricchezze più grandi e figli quindi non saremo castigati d'in verità il mio signore concede generosamente a chi vuole e lesina a chi vuole ma la maggior parte degli uomini non lo sa i vostri beni e i vostri figli non vi potranno avvicinare a noi eccetto per chi crede e compie il bene essi sono coloro che avranno ricompensa raddoppiata per quel che facevano saranno al sicuro negli alti livelli del paradiso coloro che invece cercano di vanificare i nostri segni saranno obbligati a presentarsi al castigo d'in verità il mio signore concede generosamente a chi vuole e lesina a chi vuole e vi restituirà tutto ciò che avrete dato egli è il migliore dei dispensatori un giorno tutti li riunirà e dirà agli angeli è voi che costoro adoravano diranno gloria a te sei tu il nostro patrono no essi adoravano i demoni la maggior parte di loro credeva in essi in quel giorno non potrete giovarvi o nuocervi a vicenda e noi diremo a coloro che furono ingiusti gustate il castigo del fuoco che tacciavate di menzogna quando vengono recitati loro i nostri chiari versetti dicono costui non è altro che un uomo che ci vuole allontanare da quello che adoravano i vostri avi e dicono questa non è altro che una menzogna inventata quando giunge loro la verità i miscredenti dicono di essa questa non è che evidente magia in passato non demmo loro libri da studiare né prima di te inviamo loro un ammonitore coloro che li precedettero già tacciarono i menzogna alle rivelazioni mentre essi non hanno raggiunto nemmeno un decimo di quello splendore che concedemmo a quegli altri trattarono da bugiardi i miei messaggeri quale riprovazione fu la mia di ad una sola cosa vi esorto state ritti per Allah a coppie o singolarmente e riflettete non c'è alcun demone nel vostro compagno egli per voi non è altro che un ammonitore che precede un severo castigo di non vi chiedo nessuna ricompensa essa vi appartiene la mia ricompensa aspetta da Allah egli è il testimone di tutte le cose di certamente il mio signore rivela la verità egli ha perfetta conoscenza di ogni cosa nascosta di è giunta la verità il falso non può dare inizio a nulla e nulla rinnovare di se mi perdo è solo contro me stesso che mi perdo se mi mantengo sulla retta via è grazie a quello che il mio signore mi ha rivelato in verità egli è colui che ascolta colui che è vicino se li vedessi quando saranno atterriti senza nessuna via d'uscita e afferrati da presso allora diranno crediamo in lui ma come raggiungeranno la fede da così lontano quando in precedenza erano miscredenti e da lontano rifiutavano l'invisibile si porrà un ostacolo tra loro e quel che desiderano come già avvenne per i loro emuli che rimasero in preda al dubbio e all'incertezza la lode appartiene ad Allah colui che ha dato origine e cieli alla terra che ha fatto degli angeli messaggeri dotati di due tre o quattro ali egli aggiunge alla creazione quello che vuole in verità Allah è onnipotente nessuno può trattenere ciò che Allah concede agli uomini in misericordia e nessuno può concedere ciò che li trattiene è lui l'eccelso il saggio o uomini ricordate il favore che Allah vi ha concesso all'infuori di lui c'è forse un creatore che vi nutra dal cielo e dalla terra non c'è altro Dio all'infuori di lui come potete allontanarvi da lui e se ti trattano da bugiardo sappi che già trattarono da bugiardi messaggeri che ti precedettero tutto quanto ritorna da Allah o uomini la promessa di Allah è verità badate che non vi inganni la vita terrena e l'ingannatore vi distolga da Allah in verità satana è vostro nemico trattatelo da nemico egli invita i suoi adepti ad essere i compagni della fiamma i miscredenti avranno un duro castigo mentre coloro che credono e compiono il bene avranno il perdono e ricompensa grande cosa ne sarà di colui al quale è stata edulcorata la nefandezza della sua azione al punto che la considera buona ma Allah svia chi vuole e guida chi vuole quindi non ti affliggere per causa loro Allah ben conosce quello che hanno operato Allah è colui che manda i venti e si sollevano nuvole che spingiamo verso una contrada morta quindi ridiamo la vita alla terra dopo che era morta allo stesso modo avverrà la resurrezione e chi desidera potenza sappia che tutta la potenza appartiene ad Allah ascende a lui la buona parola ed egli eleva alta l'azione devota coloro che invece tramano le azioni malvagie avranno un castigo severo la loro trama è destinata al fallimento Allah vi ha creati dalla terra e poi da una goccia di sperma e quindi vi ha disposti a coppie non c'è femmina che sia gravida o partorisca a sua insaputa a nessuno sarà prolungata o abbreviata la vita senza che ciò non sia scritto in un libro in verità ciò è facile per Allah i due mari non sono uguali uno di acqua fresca dolce da bere e l'altro di acqua salata amara eppure ed entrambi mangiate una carne freschissima e traete gioielli di cui vi adornate e vedrà le navi solcarli sciabordando affinché possiate procurarvi la grazia di Allah sarete riconoscenti e gli fa sì che la notte compenetri il giorno e il giorno compenetri la notte e ha sottomesso il sole e la luna ciascuno orbita fino ad un termine stabilito questi è Allah il vostro signore appartiene a lui la sovranità mentre coloro che invocate all'infuori di lui non posseggono neppure una pellicola di seme di dattero se li invocate non odono la vostra invocazione e se mai la udissero non saprebbero rispondervi nel giorno della risurrezione rinnegeranno il vostro associare nessuno può informarti come colui che è il ben informato o uomini voi siete bisognosi di Allah mentre Allah è colui che basta se stesso il degno di lode se volesse vi farebbe perire e susciterebbe una nuova creazione ciò non è difficile per Allah nessuno porterà il peso di un altro se qualcuno pesantemente gravato chiederà aiuto per il carico che porta nessuno potrà alleggerirlo quando anche fosse uno dei suoi parenti tu devi avvertire solo coloro che temono il loro signore in ciò che non è visibile e assolvono all'orazione chi si purifica è solo per se stesso che lo fa e la meta è in Allah non sono uguali il cieco e colui che vede né le tenebre e la luce né l'ombra e la calura né i morti sono uguali ai vivi in verità Allah fa udire chi vuole mentre tu non puoi far sentire coloro che sono nelle tombe tu non sei che un ammonitore ti abbiamo inviato con la verità non si è d'ammonitore e non c'è comunità in cui non sia venuto un ammonitore e se ti trattano da bugiardo già coloro che li precedettero tacciarono di menzogne i loro messaggeri anche se avevano recato le prove evidenti scritture e il libro che illumina poi afferrai i miscredenti e quanto grande fu la mia riprovazione non hai visto che Allah fa scendere l'acqua dal cielo e che suscitiamo da essa frutti di diversi colori e le montagne hanno striature bianche e rosse di diversi colori e anche nere corvine e in egual modo anche gli uomini gli animali e le greggi hanno anche essi colori diversi tra i servi di Allah solo i sapienti lo temono Allah è il potente il perdonatore in verità coloro che recitano il libro di Allah assolvono all'orazione e segretamente in pubblico danno di ciò che abbiamo loro concesso sperano in un commercio imperituro e che Allah li ricompensi pienamente e aggiunga della sua grazia sì egli è perdonatore riconoscente ciò che ti abbiamo rivelato del libro è la verità conferma di ciò che era prima di esso in verità Allah è ben informato sui suoi servi è colui che vede con chiarezza facemmo poi eredi della scrittura i nostri servi che scegliamo fra essi c'è chi fa torto a se stesso chi segue una via intermedia chi vince la gara del bene con il permesso di Allah questa è la grazia immensa entreranno nei giardini di Eden ornati di bracciali d'oro e di perle e saranno di sete i loro vestiti diranno sia lodato Allah che ha allontanato da noi la tristezza in verità il nostro signore è perdonatore riconoscente è colui che ci ha introdotti per grazia sua nella dimora della quiete in cui non ci affliggerà nessuna fatica o stanchezza coloro che invece non credono avranno il fuoco dell'inferno giammai sarà decisa la loro morte e nulla sarà sottratto al castigo ricompenseremo così ogni ingrato e colà grideranno signore facci uscire affinché possiamo compiere il bene invece di quel che già abbiamo fatto verrà loro risposto non vi abbiamo dato una vita abbastanza lunga tale che potesse ricordarsi che avesse voluto ricordare eppure vi è raggiunto l'ammonitore gustate dunque il castigo che per gli ingiusti non ci sarà soccorritore sì Allah è colui che conosce l'invisibile dei cieli e dalla terra in verità egli conosce quello che c'è nei petti egli è colui che vi ha fatti eredi della terra quanto a chi sarà miscredente la sua miscredenza è a suo danno la loro miscredenza non fa che accrescere l'abominio dei miscredenti di fronte al loro signore la loro miscredenza non fa che accrescere la loro rovina di cosa ne pensate dei vostri associati che invocate all'infuori di Allah mostratemi quel che dalla terra hanno creato oppure è nella creazione dei cieli che sono associati ad Allah o forse demo loro un libro affinché si appoggino ad una prova no quel che gli ingiusti si promettono a vicenda non è che frode Allah trattiene i cieli e la terra affinché non sprofondino che se sprofondassero nessuno li potrebbe trattenere all'infuori di lui in verità egli è magnanimo perdonatore giurano in nome di Allah con salenni giuramenti che se giungesse loro una monitore agirebbero più rettamente di qualsiasi altra comunità poi quando giunge loro un ammonitore ciò non fa che accrescere la loro avversione la loro superbia sulla terra e le loro trame malvagie ma la trama malvagia non fa che avvolgere i suoi artefici si aspettano un'altra consuetudine diversa da quella che fu adottata per i loro avi non troverai mai un cambiamento nella consuetudine di Allah non troverai deviazione alcuna nella consuetudine di Allah non hanno viaggiato sulla terra non hanno visto ciò che è avvenuto a coloro che li precedettero che pure erano più forti di loro nulla nei cieli e sulla terra potrebbe annullare la potenza di Allah in verità egli è sapiente potente se Allah punisse gli uomini per ciò che si meritano non lascerebbe alcun essere vivente sulla terra ma egli li rinvia fino a un termine stabilito poi quando giungerà il termine loro sapranno che Allah osserva attentamente i suoi servi in verità tu sei uno degli inviati su una retta via rivelazione del potente il misericordioso affinché tu avverto un popolo i cui avi non sono stati avvertiti e che dunque sono incuranti già si è realizzato il decreto contro la maggior parte di loro non crederanno sì porremo ai loro colli giochi che saliranno fino al mento saranno irrigiditi emetteremo una barriera davanti a loro e una barriera dietro di loro poi li avvilupperemo affinché non vedano niente che tu li avverta oppure no per loro sarà la stessa cosa non crederanno in verità avvertirai solo colui che segue il monito e teme il compassionevole in ciò che è invisibile annunciagli il perdono e generosa ricompensa in verità siamo noi a ridare la vita ai morti registriamo quello che hanno fatto e le conseguenze dei loro atti abbiamo enumerato tutte le cose in un archetipo esplicito proponi loro la metafora degli abitanti della città quando vi giunsero gli inviati quando gliene inviammo due essi li trattarono da bugiardi mandammo loro il rinforzo di un terzo dissero in verità siamo stati inviati a voi risposero non siete altro che uomini come noi il compassionevole non ha rivelato nulla non siete altro che dei bugiardi dissero il nostro signore sa che in verità siamo stati inviati a voi con il solo obbligo della comunicazione esplicita dissero siete di malaugurio se non desistete vi lapideremo e vi faremo subire un severo castigo risposero il malaugurio è su di voi è così che vi comportate quando siete esortati siete gente perversa da un estremo della città giunse correndo un uomo disse oh popol mio seguite gli inviati seguite coloro che non vi chiedono alcuna ricompensa e che sono ben diretti perché mai non dovrei adorare colui che mi ha creato e al quale sarete tutti ricondotti mi prenderò altre divinità all'infuori di lui se il compassionevole volesse del male per me la loro intercessione non mi gioverebbe in alcunché né saprebbero salvarmi sarai allora nell'errore evidente in verità credo nel vostro signore ascoltatemi dunque gli fu detto entra nel paradiso disse se la mia gente sapesse come mi ha perdonato il mio signore e mi ha posto tra coloro che sono onorati dopo di lui non facemmo scendere dal cielo nessuna armata non abbiamo voluto far scendere nulla sul suo popolo non ci fu altro che il grido uno solo e furono spenti oh miseria sui servi di Allah non giunge loro un messaggero che essi non scherniscano non hanno visto quante generazioni abbiamo fatto perire prima di loro esse non torneranno mai più sulla terra e saranno tutti quanti obbligati a presentarsi davanti a noi ecco un segno per loro la terra morta a cui ridiamo la vita e dalla quale facciamo uscire il grano che mangiate abbiamo posto su di essa giardini di palmeti e vigne e vi abbiamo fatto sgorgare le fonti affinché mangiassero i suoi frutti e quel che le loro mani non hanno procurato non saranno riconoscenti gloria a colui che ha creato le specie di tutto quello che la terra fa crescere di loro stessi e di ciò che neppure conoscono è un segno per loro la notte che spogliamo del giorno ed allora sono nelle tenebre e il sole che corre verso la sua dimora questo è il decreto dell'eccelso del sapiente e alla luna abbiamo assegnato le fasi finché non diventa come una palma invecchiata non sta il sole raggiungere la luna e neppure alla notte sopravanzare il giorno ciascuno vaga nella sua orbita è un segno per loro che portammo la loro progenie su di un vascello stracarico e per loro ne creiamo di simili sui quali si imbarcano se volessimo ti annegheremmo e allora non avrebbero alcun soccorso e non sarebbero salvati se non dalla nostra misericordia e come temporaneo godimento quando si dice loro temete ciò che vi sta dinnanzi e quello che è dietro di voi affinché possiate essere oggetto di misericordia non giunge loro un solo segno tra i segni del loro signore senza che se ne distolgano e quando si dice loro siate generosi di ciò che Allah vi ha concesso i miscredenti dicono ai credenti dovremmo nutrire chi sarebbe nutrito da Allah se lui lo volesse siete in evidente errore e dicono quando si realizzerà questa promessa se siete veridici non aspettano altro che un grido uno solo che li afferrerà mentre saranno in piena polemica e non potranno dunque fare testamento e neppure ritornare le loro famiglie sarà soffiato nel corno ed ecco che dalle tombe si precipiteranno verso il loro signore dicendo guai a noi chi ci ha destato dalle nostre tombe è quello che il compassionevole aveva promesso gli inviati avevano detto il vero sarà solo un grido uno solo e tutti saranno condotti davanti a noi e in quel giorno nessuno subirà un torto e non sarete compensati se non per quello che avrete fatto in quel giorno i compagni del paradiso avranno gioiosa occupazione essi e le loro spose distesi all'ombra su alti letti colavranno frutta e tutto ciò che desidereranno e pace sarà il saluto rivolto loro da un signore misericordioso e sarà detto tenetevi in disparte in quel giorno o iniqui o figli di Adamo non vi ho forse comandato di non adorare Satana in verità è un vostro nemico dichiarato e di adorare me questa è la retta via egli ha sviato molti di voi non comprendete dunque ecco l'inferno che vi è stato promesso bruciate in esso quest'oggi poiché siete stati miscredenti in quel giorno sigilleremo le loro bocche parleranno invece le loro mani e le loro gambe daranno testimonianza di quello che avranno fatto e se volessimo cancelleremmo i loro occhi e si precipiterebbero allora sul sentiero ma come potrebbero vedere e se volessimo li pietrificheremmo sul posto e non saprebbero né avanzare né ritornare indietro noi incurviamo la statura di tutti coloro ai quali concediamo una lunga vita non capiscono ancora non gli abbiamo insegnato la poesia non è cosa che gli si addice questa rivelazione non è che un monito e un corano chiarissimo affinché avverta ogni vivente e si realizzi il decreto contro i miscredenti non hanno visto che tra ciò che abbiamo creato per loro con le nostre mani c'è il bestiame che essi possiedono lo abbiamo sottomesso a loro di alcuni fanno cavalcature e di altri si nutrono e ne traggono benefici e bevanda non saranno dunque riconoscenti si prendono divinità all'infuori di Allah nella speranza di essere soccorsi e se non potranno soccorrerli saranno anzi un'armata schierata contro di loro non ti affliggano i loro discorsi noi ben conosciamo quello che celano e quello che palesano non vede l'uomo che lo abbiamo creato da una goccia di sperma ed eccolo in spudolata polemica ci propone un luogo comune e dimentico della sua creazione dice chi ridarà la vita ad ossa polverizzate di colui che le ha create la prima volta ridarà loro la vita egli conosce perfettamente ogni creazione egli è colui che nell'albero verde ha posto per voi un fuoco con cui accendete colui che ha creato i cieli e la terra non sarebbe capace di creare loro simili invece sì egli è il creatore incessante il sapiente quando vuole una cosa il suo ordine consiste nel dire sì ed essa è gloria a colui nella cui mano c'è la sovranità su ogni cosa colui al quale sarete ricondotti sura 37 per coloro che si schierano in ranghi per coloro che respingono con forza per coloro che recitano il monito in verità il vostro dio è uno signore dei cieli della terra e di quello che vi è in mezzo il signore degli orienti in vero abbiamo ornato di stelle il cielo più vicino per proteggerlo contro ogni diavolo ribelle non potranno rigliare il supremo consesso saranno bersagliati da ogni lato e scacciati avranno il castigo perpetuo eccetto colui che ne afferri un dettaglio ma lo inseguirà allora un bolide fiammeggiante chiedi loro se la loro natura è più forte di quella degli altri esseri che noi abbiamo creato in verità li creammo di argilla impastata tu stupisci e loro scherniscono quando viene loro ricordato il monito non vi badano affatto quando scorgono un segno se ne prendono beffa e dicono questa è evidente magia quando saremo morti ridotti a polvere ossa saremo resuscitati e così puri i nostri avi di sì e sarete umiliati ci sarà uno squillo uno solo ed ecco che vedranno e diranno guai a noi ecco il giorno del giudizio è il giorno della separazione che tacciavate di menzogna riunite gli ingiusti e le loro spose e quelli che adoravano all'infuori di Allah e vengano condotti sulla via della fornace fermateli devono essere interrogati perché ora non vi aiutate a vicenda ma in quel giorno vorranno sottomettersi e si rivolgeranno gli uni agli altri interrogandosi diranno vi presentavate dalla parte destra risponderanno voi piuttosto non eravate credenti non avevamo alcuna autorità su di voi eravate gente ribelle perciò la promessa di Allah sia realizzata contro di noi e ne avremo esperienza noi vi abbiamo traviato perché in verità noi stessi eravamo traviati in quel giorno saranno accomunati nel castigo in verità agiamo così con gli iniqui quando si diceva loro non c'è Dio all'infuori di Allah si gonfiavano d'orgoglio e dicevano dovremmo abbandonare i nostri dei per un poeta posseduto sì è venuto con la verità e ha confermato gli inviati che lo hanno preceduto in verità gusterete il castigo doloroso ma non sarete compensati per altro che per quel che avrete fatto eccetto i servi devoti di Allah essi avranno una nota provvigione di frutti e saranno colmati di onori nei giardini della delizia su giacigli rivolti gli uni verso gli altri girerà tra loro una coppa di bevanda sorgiva chiara e deliziosa da bersi che non produce obriachezza né stordimento e accanto a loro ci saranno quelle dagli sguardi casti dagli occhi grandi simili a uova nascoste si rivolgeranno gli uni agli altri interrogandosi uno di loro dirà avevo un compagno che mi diceva sei uno di quelli che credono quando saremo morti ridotti a polvere ossa dovremo rendere conto e dirà volete guardare dall'alto guarderà dall'alto e vedrà l'altro in mezzo alla fornace gli griderà per Allah davvero stavi per causare la mia rovina senza la benevolenza del mio signore sarei stato certamente uno dei dannati siamo dunque morti solo di quella prima morte e non subiremo alcun castigo davvero questa è la beatitudine immensa a tal fine agiscano coloro che agiscono questa è miglior accoglienza oppure i frutti dell'albero di zaccum in verità ne abbiamo fatto una prova per gli ingiusti è un albero che spunta dal fondo della fornace i suoi frutti sono come teste di diavoli essi ne mangeranno e se ne riempiranno i ventri e vi berranno sopra una mistura bollente e poi ritorneranno verso la fornace in verità hanno trovato i loro avi smarriti e si sono lanciati sulle loro tracce e prima di loro certamente si smarrirono la maggior parte dei loro avi già inviamo presso di loro degli ammonitori considera cosa avvenne a quelli che furono ammoniti eccetto i servi devoti di Allah in vero ci invocò Noè e fummo i migliori a rispondergli salvammo lui e la sua famiglia dall'angoscia più grande e facemmo della sua progenia i superstiti lasciamo il ricordo di lui ai posteri pace su Noè nel creato compensiamo così coloro che fanno il bene in verità era uno dei nostri servi devoti annegammo gli altri in verità Abramo era certamente uno dei suoi seguaci quando si accostò il suo signore con cuore puro disse a suo padre al suo popolo cos'è che adorate volete fallacemente degli dèi all'infuori di Allah cosa pensate del signore dell'universo gettò poi uno sguardo agli astri e disse sono malato gli voltarono le spalle e se ne andarono scivolò presso i loro dei e disse non mangiate dunque che avete perché non parlate poi li colpì con la mano destra accorsero in tutta fretta disse adorate ciò che scolpite voi stessi mentre Allah che vi ha creati voi e ciò che fabbricate risposero costruite un forno e gettatelo nella fornace tramarono contro di lui ma furono loro gli umiliati disse in verità vado verso il mio signore egli mi guiderà signore donami un figlio devoto signore donami un figlio devoto gli demmo la lieta novella di un figlio magnanimo poi quando raggiunse l'età per accompagnare suo padre questi gli disse figlio mio mi sono visto in sogno in procinto di immolarti dimmi cosa ne pensi rispose padre mio fai quel che ti è stato ordinato se Allah vuole sarò rassegnato quando poi entrambi si sottomisero e lo ebbe disteso con la fronte a terra noi lo chiamiamo o Abramo è realizzato il sogno così noi ricompensiamo quelli che fanno il bene questa è davvero una prova evidente e lo riscattammo con un sacrificio generoso perpetuammo il ricordo di lui nei posteri pace su Abramo così ricompensiamo coloro che fanno il bene in verità era uno dei nostri servi credenti e gli demmo la lieta novella di Isacco profeta tra i buoni elargimmo su di lui e su Isacco la pienezza della benedizione tra i loro discendenti c'è il virtuoso e colui che è palesemente ingiusto nei suoi stessi confronti già colmammo di favore Mosè Aronne salvamo loro e loro popolo dall'angoscia più grande prestamo loro soccorso ed essi ebbero il sopravvento demmo entrambi la scrittura esplicita e li guidamo sulla retta via perpetuammo il loro ricordo nei posteri pace su Mosè e su Aronne così ricompensiamo coloro che fanno il bene erano entrambi nostri servi credenti in verità Elia era uno degli inviati disse al suo popolo non sarete timorati di Allah invocherete Baal e trascurerete il migliore dei creatori Allah il vostro signore e il signore dei vostri avi più antichi lo trattarono da bugiardo infine saranno condotti al castigo eccetto i servi devoti di Allah perpetuammo il ricordo di lui nei posteri pace su Elia così ricompensiamo coloro che fanno il bene in verità era uno dei nostri servi credenti in verità Lot era uno degli inviati lo salvammo insieme con tutta la sua famiglia eccetto una vecchia che fu tra coloro che restarono indietro e gli altri li annientammo passate su di loro il mattino e durante la notte non capite dunque in verità Giona era uno degli inviati fuggì sulla nave stipata quando tirarono a sorte fu colui che doveva essere gettato in mare lo inghiottì un pesce mentre si rammaricava se non fosse stato uno di coloro che glorificano Allah sarebbe rimasto nel suo ventre fino al giorno della resurrezione lo gettammo sofferente sulla nuda riva e facemmo crescere su di lui una pianta di zucca lo inviammo a centomila uomini o ancora di più credettero e concedemmo loro temporaneo godimento poni loro questa domanda il tuo signore avrebbe figlie e loro figli abbiamo forse creato angeli femmine ed essi ne furono testimoni non è forse vero che nella loro calunnia dicono Allah ha generato in verità sono bugiardi avrebbe forse preferito le figlie ai figli che cosa avete come giudicate non riflettete vi basate su un'autorità incontestabile portate la vostra scrittura se siete veritieri stabiliscono una parentela tra lui e i demoni ma i demoni sanno bene che dovranno comparire gloria da Allah egli è ben più alto di quel che gli attribuiscono eccetto i servi devoti di Allah in verità né voi né ciò che adorate potreste tentare nessuno se non chi sarà bruciato nella fornace non c'è nessuno di noi che non abbia un posto stabilito in verità siamo schierati in ranghi in verità siamo noi che glorifichiamo Allah anche se dicevano se avessimo avuto un monito tramandatoci dagli antichi saremmo stati servi sinceri di Allah invece non vi prestarono fede presto sapranno già la nostra parola pervenne agli inviati i nostri servi saranno loro ad essere soccorsi e le nostre schiere avranno sopravvento allontanati da loro per un periodo e osservali presto vedranno è il nostro castigo che cercano di sollecitare se si abbatte nei loro pressi ma che mattino terribile per coloro che sono stati avvertiti allontanati da loro per un periodo e osservali presto vedranno gloria al tuo signore signore dell'onnipotenza ben al di sopra di quel che gli attribuiscono e pace sugli inviati e lode ad Allah signore dei mondi Sura 38 Saad per il corano che contiene il monito sono i miscredenti ad essere nell'orgoglio e nello scisma quante generazioni abbiamo annientato prima di loro lanciarono grida d'aiuto quando non c'era più tempo per sfuggire al castigo essi stupiscono che sia giunto un ammonitore della loro gente i miscredenti dicono è uno stregone un gran bugiardo ridurrà forse l'idea ad un dio unico questa è davvero una cosa strana e i notabili se ne andarono dicendo andatevene e rimanete fedeli ai vostri dei questa è davvero la cosa più augurabile non sentimmo niente di ciò nell'ultima religione si tratta di pura invenzione è solo su di lui che sarebbe stato fatto scendere il monito sono perplessi a proposito del mio monito non hanno ancora gustato il mio castigo hanno forse i tesori della misericordia del tuo signore l'eccelso il munifico o posseggono la sovranità dei cieli e della terra e di quello che vi è fra mezzo e allora lasciali a scendere per le vie del cielo un'armata di fazioni alleate che saranno annientate in questo stesso luogo prima di loro accusarono di menzogna gli inviati il popolo di Noè gli Ad e Faraone il signore dei pali e i Thamud e la gente di Lot e quelli di Al Haikah erano questi i faziosi non ce ne fu alcuno che non abbia tacciato di menzogna e messaggeri hanno meritato il mio castigo non aspetteranno altro che un grido improrrogabile dicono signore anticipaci la nostra parte prima del giorno del rendiconto sopporta con pazienza quel che dicono e ricordati del nostro servo Davide così forte così pronto al pentimento obbligamo le montagne a renderci gloria con lui alla sera e al mattino e insieme gli uccelli riuniti attorno a lui tutto gli obbedisce consolidamo la sua sovranità e gli demmo saggezza e capacità di giudizio si è giunta la storia dei due litiganti che scalarono le mura del tempio quando si pararono davanti a Davide spaventandolo dissero non aver paura siamo due in lite tra loro uno di noi ha fatto torto all'altro giudica tra noi con giustizia non essere iniquo e guidaci sulla retta via questo è il mio fratello possiede 99 pecore mentre io non ne possiedo che una sola mi ha detto affidamela ed ebbe la meglio nella discussione disse certamente ha mancato nei tuoi confronti chiedendoti la tua pecore in aggiunta alle sue in verità molti associati in un affare si fanno torta vicenda eccetto coloro che credono e compiono il bene ma essi sono ben pochi davide capì che lo avevamo messo alla prova implorò il perdono del suo signore cade in prosternazione e si pentì allora lo perdonammo egli ha un buon posto vicino a noi e un buon luogo di ritorno o davide abbiamo fatto di te un vicario sulla terra giudica con equità tra gli uomini e non inclinare le tue passioni che esse ti travieranno dal sentiero di Allah in verità coloro che si allontanano dal sentiero di Allah subiranno un severo castigo per aver dimenticato il giorno del rendiconto non creiamo in vano il cielo la terra e quello che vi è fra mezzo questo è ciò che pensano i miscredenti guai e miscredenti per il fuoco che li attende tratteremo forse coloro che credono e fanno il bene alla stessa stregua di coloro che seminano disordine sulla terra tratteremo i timorati come i malvagi ecco un libro benedetto che abbiamo fatto scendere su di te affinché gli uomini meditino sui suoi versetti e ne tragano un monito i savi abbiamo dato a Davide Salomone un servo eccellente di Allah pronto al pentimento una sera dopo che gli furono esibiti alcuni magnifici cavalli ritti su tre zampe disse in verità ho amato i beni terreni più che il ricordo del mio signore finché non sparì il sole dietro il velo della notte riconduceteli a me e iniziò a tagliar loro i garretti e i colli mettemmo alla prova Salomone mettendo un corpo sul suo trono poi si pentì e disse signore perdonami e concedimi una sovranità che nessun altro avrà dopo di me in verità tu sei il munifico gli assoggettamo il vento soffiava al suo comando fin dove voleva inviarlo e gli asservimmo tutti i demoni costruttori e nuotatori di ogni specie e altri ancora incatenati a coppie questo è il nostro dono dispensa o tesaurizza senza doverne rendere conto in verità egli ha un posto vicino a noi e un buon luogo di ritorno e ricorda il nostro servo Giobbe quando chiamò il suo signore Satana mi ha colpito con disgrazie e afflizioni batti il tallone avrai acqua fresca per lavarti e per bere gli restituimmo la sua famiglia e con essa un'altra simile segno di misericordia da parte nostra e monito per coloro che sono dotati di intelletto gli ordinammo ringi nella tua mano una manciata d'erba colpisci con quella e non mancare al tuo giuramento lo trovammo perseverante un servo ottimo pronto al pentimento e ricorda i nostri servi Abramo Isacco e Giacobbe forti e lungimiranti ne facemmo degli eletti affinché fossero il monito della dimora ultima in verità sono presso di noi tra i migliori degli eletti e ricorda Ismaele Eliseo e Zul Kifl ciascuno di loro è tra i migliori questo è un monito in verità i timorati avranno soggiorno bello i giardini di Eden le cui porte saranno aperte per loro colà comodamente appoggiati chiederanno abbondanza di frutta e bevande e staranno loro vicine quelle dallo sguardo casto coetanee ciò è quanto vi è promesso per il giorno del rendiconto in verità questi sono i beni che vi concediamo e che non si esauriranno mai così sarà i ribelli avranno invece il peggiore dei soggiorni l'inferno in cui saranno precipitati qual tristo giaciglio così sarà e allora che assaggino acqua bollente e acqua fetida ed altri simili tormenti questa è una folla che si precipita insieme con voi non avranno benvenuto e cadranno nel fuoco diranno non c'è benvenuto per voi per voi che ci avete preparato tutto ciò qual tristo rifugio diranno signore raddoppia il castigo nel fuoco a chiunque ce l'abbia preparato diranno perché mai non vediamo tra noi quegli uomini che consideravamo miserabili dei quali ci facevamo beffe e che evitavamo di guardare in vero saranno queste le mutue recriminazioni della gente del fuoco di io non sono altro che un ammonitore non c'è altro dio all'infuori di Allah l'unico il dominatore il signore dei cieli della terra e di ciò che vi è fra mezzo l'eccelso il perdonatore di questo è un annuncio solenne ma voi ve ne allontanate non avevo nessuna conoscenza della discussione del supremo consesso mi è stato solo rivelato che non sono che un ammonitore esplicito ricorda quando il tuo signore disse agli angeli creerò un essere umano con l'argilla dopo che l'avrò ben formato e avrò soffiato in lui del mio spirito gettatevi in prosternazione davanti a lui tutti gli angeli si prosternarono assieme eccetto iblis che si inorgoglì e divenne uno dei miscredenti Allah disse o iblis cosa ti impedisce di prosternarti davanti a ciò che ho creato con le mie mani ti gonfi d'orgoglio ti ritieni forse uno dei più elevati rispose sono migliore di lui mi hai creato dal fuoco mentre creasti lui dalla creta Allah disse esci di qui in verità sei maledetto e la mia maledizione sarà su di te fino al giorno del giudizio disse signore concedimi una dilazione fino al giorno in cui saranno risuscitati rispose Allah tu sei fra coloro cui è concessa dilazione fino al giorno dell'istante noto disse per la tua potenza tutti li travierò eccetto quelli fra loro che sono tuoi servi protetti Allah disse questa è la verità io dico in verità che riempirò l'inferno di te e di tutti quelli di loro che ti seguiranno di non vi chiedo ricompensa alcuna né sono fra coloro che vogliono imporsi questo non è che un monito per le creature e tra qualche tempo ne avrete certamente notizia grazie